Minecraft ma parto nel paradiso Andiamo subito a creare un nuovo mondo Chiamandolo con un nome semplicissimo Ovvero dai che stavolta va bene E ora andiamo subito a crearlo Ok ora che siamo nel mondo l'obiettivo principale come al solito è quello di trovare un diamante Però ci troviamo in un luogo un po' diverso E sta palla di nevi Senti sono nuovo Prendiamo un po' di bacche da questi che spugli Sperando che sono commestibili Perché se non sono commestibili non è una bella cosa E prendiamo anche della legna Creiamo una crafting Creiamo un piccone Prendiamo della pietra Creiamo un piccone e una asce in pietra E inizio di aver trovato uno di quei dungeon Andiamo un po' a esplorare Wow ma che be... C'è un piccolino Eh ma è una bomba Ok apriamo... Oh ma che è? Se l'ha preso vita sta cesto Ma mi vuole mangiare Vai via Ok allora in teoria questa è la... Cioè si serve un piccone Eh? Cosa? Oh 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 Cazzo 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 No 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 ascolta ascolta Pariamone Come cazzo si esce da qua Fai uscire Sono morto Sono morto Sono morto Ma porca Ma Ma